La terza commissione ha approvato alla unanimità una proposta di legge frutto della sintesi di due testi presentati da Perrino e Quarto che modifica la legge regionale in materia di energia ed ambiente impugnata dal Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2019 eccependo lo sconfinamento della competenza propria della Regione Basilicata ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Obiettivo della proposta firmata anche dai consiglieri Giorgetti e Sileo quello di abrogare alcune disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili. A motivare la presentazione della proposta di legge a parere dei proponenti sono state soprattutto le modalità scriteriate con cui si è provveduto fino ad oggi alla installazione dei cosiddetti impianti di mini eolico arrivando addirittura ad installarne in aree di grande pregio paesaggistico e di interesse archeologico al fine di dare certezza e stabilità alla normativa del settore vigente oltre che evitare un inutile contenzioso con la proposta di legge che consta di tre articoli si intende procedere all'abrogazione delle norme impugnate onde far venire meno le ragioni del contendere.